altra partita strappa lacrime dell'Inter di Insani strappa lacrime la mia mente va a quel tifoso inquadrato non so se l'avete notato con gli occhi luccicanti sì perché questo Inter ti emoziona come poche come poche ancora una volta maturità ancora una volta ancora una volta tanti essere squadra prima di tutto essere squadra al di là degli interpreti è vero che ogni partita è un test e quindi c'è da andare poi a riconfermarlo in Spagna ogni partita fa storia a sé ma questa è una squadra che non si tira indietro neanche dinanzi a questi appuntamenti non si tira indietro perché davvero credo con la finale di Champions si è si è portata ad un determinato status e da lì non scende da lì non vuole scendere lì ci vuole rimanere anzi quasi pretende di salire questa è una roba è una roba che che caspita mi lascia mi lascia toneto prima di tutto la forza dell'int la fase difensiva è troppo facile anche stasera andare a vedere quante occasioni create e quante divorate lasciatemelo dire anzi se c'è un difetto oggi un grandissimo difetto che tiene in gara è tutto aperto per quanto riguarda la qualificazione è stata la mancanza di cattiveria sottoporta che spero non pagheremo perché poi non è il campionato queste sono partite che si decidono nei dettagli che si decidono in 180 minuti e lì puoi sbagliare poco e puoi pagare Dazio ma parto dalla fase difensiva perché anche oggi l'int ha concesso zero tiri in porta all'Atletico di Madrid direte voi sì ma se il tiro di lì anziché andare fuori dei pali va in porta è un tiro in porta sì ma vi porto quel dato per dirvi che l'Inter non rende le cose facili a nessuno è raro che regala spazi è raro che si fa trovare impreparato anche su un erroraccio clamoroso che fa in ripresa in ripresa è il primo tempo no forse è il primo tempo batti un calcio d'angolo è il primo tempo batti il calcio d'angolo ti ripartono in contropede perché erratamente lì non ho capito chi cazzo perdono palla e subito rinculano tutti e da un'azione potenzialmente pericolosa per l'Atletico ti ritrovi di nuovo lì precisi e vai a chiudere le scalature la squadra si fa trovare preparata quindi è un Inter che dal punto di vista tattico è perfetta e fatemelo dire perché sono stato uno di quelli che negli anni ha anche attaccato e dico anche giustamente perché l'Inter di quest'anno non è quella che è passata stagione ragazzi non è non è assolutamente quella dell'anno scorso non è assolutamente quella di due anni fa questo per rimarcare il lavoro per rimarcare il lavoro ragazzi per rimarcare questo è una partita dove paradossalmente vi dico che non tutti l'hanno giocata al me ho visto tante tante eccellenze ma anche tanti errori perché magari in partite come queste si sente un po' di più la tensione sale e per esempio non abbiamo ritrovato lo stesso Michi non abbiamo ritrovato lo stesso Cialanol che secondo me ha fatto un buon primo tempo ho visto delle belle aperture ma nella ripresa ha sbagliato veramente troppo i palloni è mancato anche Lautaro sotto porta non nel lavoro di squadra è perché Lautaro onnipresente devastante e quindi ci sono state anche se vogliamo delle piccole defezioni ma nonostante tutto l'Inter ragazzi ha messo sotto l'Atletico di Madre l'abbiamo messa sotto nel secondo tempo abbiamo alzato ancora dei più i ritmi proprio a voler testimoniare che questa partita va vinta siamo in casa siamo l'Inter siamo consci di quel che siamo e la dobbiamo vincere e questo ragazzi fatemelo dire cioè ma io riparto ripeto parto dal discorso maturità perché poi se andiamo anche alla qualità c'è c'è l'Inter la risolve grazie soprattutto agli uomini della panchina e per uomini della panchina non me ne voglia Arnautic che segna bello tutti contenti ma gli uomini della panchina che la decidono sono Carlos Augusto da una parte Dumfries frattesi ragazzi hanno inciso tutte e tre hanno inciso hanno inciso tutte e tre sono stati devastanti lo stesso De Vrai che ha preso il posto di Acerbi clamoroso lì dietro clamoroso veramente clamoroso e poi andiamo all'unico vero neo come dicevo prima alla cattiveria che poi ti può costare la cattiveria ti può costare perché in partite dove potevi fare tranquillamente quattro gol tranquilla abbiamo avuto quattro barra cinque clamorose occasioni da gol quella di Lautaro nel primo tempo cestinata quale c'è stata Arnautic se ne divorate tre Lautaro di testa centrale per la prendo black quattro cinque occasioni clamorose sicuramente in questo momento ce n'è qualcuno che ho rimosso e bisogna fare meglio bisogna pregare anche nel ritorno di Tikus io mi auro veramente che Turam stia bene perché abbiamo bisogno di lui abbiamo bisogno di lui non prendiamoci in giro non voglio buttare la croce addosso Arnautic al nostro tesserato al nostro giocatore tutto bello ma se dobbiamo fare un'analisi concreta Arnautic ragazzi miei cazzarola cazzarola a caldo mi sono infoiato di brutto perché perché le aveva sbagliate tutte ragazzi anche il gol è un tiro sbagliato ragazzi miei anche il gol se la butta dentro il difensore anche il gol ragazzi guardate se la butta dentro il difensore e in questa competizione dove il dettaglio ti fa la differenza bisogna stare attento a un order vero devo dire che non è stato l'unico è perché Lautaro ha fatto una partita clamorosa ma sottoporta oggi è venuto meno anche 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 Lautaro perché sempre sull'occasione del gol lì l'aveva l'aveva cestinata aveva Dunfuss a fianco ha tirato non ha superato un Oblak perfetto Oblak ragazzi è un portiere pure lui clamoroso assolutamente e questo è se c'è una sorta di rammarico è che poteva e doveva magari finire con un risultato più ampio questo questo sì ma ragazzi bisogna bisogna partire dalla ripeto dalla dalle certezze che questa squadra si è costruita nel tempo e che oggi sente sua c'è c'è stato un lavoro e si vede c'è un lavoro clamoroso un lavoro tattico un lavoro tecnico un lavoro mentale che fa sì che questa squadra viaggi è sempre più spedita non dipende non dipende dall'avversario molto 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 bello sono 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 veramente sono veramente contento queste sere è veramente facile oltre che bello essere un tifoso dell'Inter perché questa squadra questa squadra è un orgoglio questa squadra è un orgoglio ragazzi ti lascia ti lascia sempre col cuore pieno saturo di emozioni e quindi bravi grazie tutti tutti veramente continuiamo così perché poi come dicevo prima ogni partita deve stare lì a dimostrare va bene Toram torna presto però ti voglio bene torna bene abbiamo bisogno che ha fatto pure nel primo tempo Toram ragazzi miei è andato lì ha recuperato quella palla poi si è lanciato lungo ha fatto sportellate con un Witzel strepitoso Witzel clamoroso ecco cosa significa la bravura dell'allenatore uno come Witzel che casino una nonna sempre come Witzel da centrocampista mediano buttato mezzala buttato lì a braccetto e a fare cose clamorose va bene un grande abbraccio signori un grande abbraccio un grande abbraccio a fare cose un grande abbraccio un grande abbraccio un grande abbraccio a fare cose a fare cose